Benvenuti, oggi siamo con il professor Dario Lianes, docente di pedagogia e didattica dell'inclusione all'Università di Borzano e cofondatore del Centro Studi Ericsson di Trento, e con il professor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta della coltiva e ricercatore verso l'Università degli Studi di Milano. Benvenuti. Oggi parliamo di guerra e di come dirlo ai bambini e adolescenti. Questo volume è edito dall'Ericsson, scritto a quattro mani con il professor Vicari e la professoressa Lucangeli. Innanzitutto chiederei al professor Lianes come è nata l'idea di scrivere questo volume. Allora, è nata da Vicari, da Vicari col quale avevamo fatto, dopo il Covid, un altro libro di valutazione, di analisi, di quello che era successo. E allora, sulla base di quello, lui dice, dai, coinvolgiamo Daniela, Alberto, insomma, cerchiamo di fare un instant book, diciamo, che aiuti gli educatori, aiuti gli insegnanti, i genitori, insomma, trovare le parole giuste, le modalità giuste per non fuggire, diciamo, dal ruolo educativo, insomma, dal ruolo importantissimo che tutti abbiamo. e allora è nato così, ci siamo coinvolti tutti a tempo di record, diciamo, in modo che poi, insomma, abbiamo fatto questo che, tra l'altro, ha già un bel riscontro, insomma, per cui siamo contenti, ecco, di avere colto al volo l'invito di Vicari. Sì, poi, in apertura, avete anche una bella intervista alla senatrice Liliana Segre, che comunque lei ha vissuto quella più brutta di quella. Beh, certo, c'è un testimone fondamentale, no? Chiaro. Ecco, professor Pellai, entriamo nel vivo di questo volume. Lei parla di le differenze tra adolescenti e bambini, quindi, diciamo, un approccio diverso e il modo in cui parlare ai ragazzi. Ecco, i bambini abbiamo una faccia di teronoma che li porta verso la colonia. Quali sono gli aspetti cruciali di questi due aspetti? Allora, nel parlare di guerra a soggetti in età evolutiva, bisogna naturalmente tenere conto delle caratteristiche, fase specifiche, legate alle loro competenze emotive, cognitive, alla loro capacità di decodificare, no? Sul piano anche astratto una notizia. Per quel che riguarda il comunicare, il parlare di guerra ai bambini, nel momento in cui ci si trova dentro ad una narrazione, come è stata quella attuale, come è tra l'altro quella ancora attualmente in corso, per cui questa cosa accompagna un po' la nostra quotidianità. Succede che molte famiglie magari pranzano avendo acceso il televisore, ascoltando il telegiornale, guardando immagini costanti da luoghi di guerra in cui si viene a sapere di bombardamenti, di iscrizioni, eccetera, i bambini effettivamente vedono raccontare una realtà che da una parte per loro è incomprensibile, vivendo in un luogo dove si sono protetti, al sicuro, sentendo la vicinanza protettiva che gli adulti mettono all'interno della loro vita, per loro questa potrebbe essere una narrazione fantastica di qualcosa che non c'è, ma poi vedendo invece la preoccupazione costante dei loro adulti di riferimento, vedendo come nei discorsi degli adulti, e questo è stato molto vero soprattutto nelle prime settimane in cui la guerra si è manifestata, ecco che quell'ansia e quella preoccupazione che avvertono nelle narrazioni dei media e poi nel dialogo e nel discorso delle loro figure di riferimento, da fuori di loro entra dentro di loro. E siccome i bambini piccoli non hanno la capacità di poi astrarre, di usare un pensiero astratto, di geolocalizzare un evento, quella cosa lì con quel genere d'immagine che è un genere d'immagine che in realtà fa un vero e proprio attentato ai codici della loro sicurezza emotiva, vedere le case che cadono, vedere la distruzione nelle città, vedere le mamme in lacrime che salutano i papà che devono andare alla guerra, queste sono state scene che abbiamo costantemente visto, raccontate nei primi giorni, nelle prime settimane di questa guerra terribile, entra dentro proprio la percezione di protezione e sicurezza del bambino in età prescolare o all'inizio della scuola primaria e quindi questa cosa lo riempie di paura, di timore, per cui succede di frequente che i bambini chiedano proprio alla mamma, al papà e guarda caso i momenti specifici come quello prima dell'addormentamento, che è un tempo di separazione dal qui ed ora, dalla consapevolezza, dalla comprensione che lì c'è un adulto con funzioni protettive, chiedono se la guerra può arrivare di notte anche nel loro cortile, chiedono se loro si dovrebbero magari trovare un giorno dentro una guerra, chiedono se anche loro, ma a loro potrebbe succedere di dover fuggire dal loro paese, dalla loro casa per andare in un luogo che fornisce la loro protezione e sicurezza, chiaramente per gli adolescenti la questione è diversa, noi abbiamo la possibilità di fare ricorso a una mente che è capace di produrre un pensiero logico strato, con loro possiamo davvero lavorare invece e comprendere le ragioni di questa guerra e da qualcosa che succede nel macrosistema, nel mondo, puoi fare molte più riflessioni che hanno anche a che fare con la loro quotidianità, cosa significa invadere un territorio, non rispettare una posizione di maggior fragilità e vulnerabilità, usare la potenza e la prepotenza invece della competenza, ricorrere alla forza e alla violenza invece che alla diplomazia, ecco sono tutti temi che poi hanno dei risvolti anche nella quotidianità della vita di un adolescente e che possono aiutare in percorsi di educazione civica e in generale direi di educazione alle life skills e alle competenze per la vita. Ecco, il professor Perrai parlava del ruolo dell'adulto, e quindi oltre alla famiglia anche insegnanti. Lei, l'Usegiane, si parla proprio di questo aspetto, di come sia importante insegnare a pensare. Come si fa? Intanto bisogna non aver paura delle situazioni complesse, perché una guerra è una situazione molto complessa, dove il rischio di passare a dei registri di ipersemplificazione, di schematizzazione, di tifoseria è estremamente presente. Per cui, diciamo, l'esercizio che la scuola può fare è quello di ricercare, ricercare i vari temi, ricercare le varie visioni, le varie opzioni, costruire un pensiero complesso, un pensiero critico, che non si schiera, che non semplifica, che non banalizza. Insomma, anche se ovviamente la prima cosa che un docente deve fare è quello di capire con se stesso o con se stessa da che parte stare, perché evidentemente in questo caso abbiamo un'aggressione. Questo è chiaro a tutti. Per cui non si può avere un registro, diciamo, relativista totale, questo è evidente, però bisogna avere un registro complesso, un registro che metta a fuoco proprio tutta la storia, le varie poste in gioco, in modo da non cadere appunto in quella trappola della semplificazione, del vabbè, bianco-nero, siamo così, noi siamo i buoni, poi siamo i cattivi. Questo non è sicuramente. Poi un'altra questione che mette a fuoco questo tema, che è un pretesto, un grande pretesto purtroppo, chiaramente, ma deve mettere a fuoco anche la dimensione etica, la dimensione dei valori, la dimensione di come ognuno di noi vive, diciamo anche le situazioni di conflitto, internazionale, nazionale, e poi più direttamente vicino anche al vissuto degli alunni e dell'alunne a scuola. Un grandissimo pretesto. Poi c'è un'altra cosa che vorrei segnalare parlando di scuola. A scuola gli alunni vedono degli adulti, vedono degli adulti e li devono vedere, secondo me, secondo noi, come adulti che vogliono capire, che vogliono cercare, che vogliono studiare, che non sono apoditici, non sono schematici, ma sono sempre in ricerca comunque di una soluzione diversa, di un pensiero laterale, di un negoziato, di una comunicazione. Sono alla ricerca anche di stare positivamente nell'ignoranza del capire. Mi ricordo quando proprio con Alberto abbiamo fatto un altro libro, parlare di Isis ai bambini. Ti ricordi Alberto questo? Che era il momento anche lì, dove, oddio, ma ci sono i terroristi, ma ci sono, arrivano da noi. Cioè lì c'era un'altra preoccupazione. Ma allora anche lì abbiamo sostenuto sempre questa idea dell'insegnante di modello di ricerca, modello di approfondimento, modello di stare in continua analisi, in continua ricerca. Questa era un'altra emergenza, era un altro periodo, insomma però i temi educativi sono chiaramente gli stessi. C'è una questione che riguarda come spiegare le nostre emozioni ai bambini e ai ragazzi, quindi la paura che viviamo, l'angoscia delle notizie così pesanti che viviamo quotidianamente. Ecco, non siamo usciti neanche da Covid che ci siamo ritrovati all'interno della guerra. E come i ragazzi assorbono queste nostre emozioni? Come si fa a spiegare a un bambino, a un ragazzo, di vivere positivamente anche le emozioni negative? Ma intanto testimoniando proprio con la nostra adultità che nella vita non tutto può essere previsto, può essere tenuto sotto controllo, la vita accade. Ecco, è quello che cercano fondamentalmente i bambini e i bambini, i ragazzi e i ragazze nella relazione con l'adulto non è un adulto a goco, la battita magica che attuola gli effetti negativi dei clienti avversi, ma è un adulto competente che dentro alla realtà sta accadendo e si fornisce un modello che non è il livello del rispetto, cioè di quello che non si rossa e qualcosa accade. è il modello del rispetto, cioè nel soggetto che dentro alle cose che accadono trova una sua modalità per rimanere in contatto con se stesso, in contatto con gli altri e soprattutto per tenere alto lo sguardo. Credo che la cosa che sia servita, che è servita di più negli anni del Covid e poi in questa narrazione di guerra sia il non proporre a chi cresce una visione catastrofista del futuro, del domani, il non raccontare il domani e il futuro esclusivamente come una minaccia, uno spazio pieno di rischi, bensì continuare a far sentire che il diventare grande, il crescere resta un'opportunità in cui poter abitare la vita per come è, non per come la vorremmo, perché quella cosa lì la dobbiamo costruire giorno per giorno, ma nell'abitare la vita per come è, ci sono tantissimi spazi che sono spazi di azione, spazi di costruzione e spazi di realizzazione di sé. Un consiglio concreto che il libro fornisce è che in questo tempo in cui noi siamo obbligati a parlare dei costruttori di guerra, c'è un enorme spazio per parlare con i nostri figli e con i nostri studenti e anche dei costruttori di pace. C'è un'enorme possibilità di mettere il focus anche su tutto quel mondo, milioni di persone che possono costruire la pace, non possono costruire la guerra. In effetti questo è un lavoro necessario da fare in una prospettiva educativa, parlando con bambini e bambine, vi hanno detto ma se noi mettessimo su una bilancia a due piatti, quante notizie, informazioni, immagini avete avuto sulla discusione che la guerra porta e quante invece notizie, immagini e suggestioni avete avuto su chi costruisce la pace mentre c'è la guerra. Come andrebbero questi due piatti della bilancia? È chiarissimo che questa cosa in questo momento è incredibilmente sbilanciata perché l'unica cosa che arriva è la narrazione della guerra, della distruzione e della catastrofe imminente. Questo direi è un modo poi di narrare tantissimo la vita e il mondo a chi cresce, il pianeta che è in un allarme continuo. Gli allarmi sono importantissimi ma gli allarmi dovrebbero servire a chi ha potere d'azione per poterli gestire, cioè il mondo adulto. Dopodiché l'allarme deve costantemente diventare un messaggio di cosa davvero è possibile fare, qual è il potere d'azione che serve, qual è lo spazio di formazione, di competenza che è necessario acquisire. Questo è il genere di messaggi che noi dobbiamo dare ai ragazzi. Quindi ritornando alla domanda, fondamentalmente noi non sfuggiamo alle regole della teoria dell'attaccamento di bolbi, cioè l'adulto deve essere una base sicura per chi cresce. Questo significa non che l'adulto non deve mai avere paura, tristezza o provare disorientamento dentro alle cose che accadono, ma l'adulto mentre sta provando paura, tristezza e disorientamento molto più velocemente e con molte più competenze dei soggetti in età evolutiva deve anche trovare poi una sua sicurezza, una sua base solida, una sua adultità per diventare riferimento per chi cresce. La cosa che fa malissimo a chi cresce è un mondo adulto che è spaventato da tutto e che nel momento in cui è spaventato diventa chiaramente spaventante e nel momento in cui è spaventante non sarà mai più base sicura il riferimento per i soggetti in età evolutiva. Ecco, professor Perlai, lei prima parlava anche di life skills e adesso c'è anche una legge che dal prossimo anno scolastico introduce le competenze non cognitive come materia di insegnamento da sviluppare a scuola e diceva anche di una società che oggi è molto basata sulle emozioni e quindi ci facciamo prendere continuamente da queste paure che viviamo quotidianamente. Quanto è importante educare i bambini nella fase di sviluppo a sviluppare e consolidare queste competenze non cognitive? Ma direi che questo significa educare il saper essere che è fondamentale lo troviamo alla base un po' di tutto il successo delle nostre vite non è tanto quello che sappiamo il sapere o il saper fare ma è il saper essere quello che ci permette poi di rendere il nostro sapere e saper fare fertile e generativo all'interno della nostra vita e delle nostre professioni è chiaro che il saper essere è fatto di variabili dimensioni e competenze che non stanno dentro a una materia o a un curriculum cognitivo ma stanno dentro a una progettazione educativa in cui sento che ti devo formare anche come persona e non solo come portatore di un sapere di abilità e competenze la consapevolezza emotiva è una risorsa enorme e straordinaria per la nostra vita chiaramente essendo uno psicoterapeuta non posso che dire questo perché è alla base un po' anche di tutto quello che noi cerchiamo poi di raggiungere con i pazienti che ci chiedono aiuto però fondamentalmente questo è quel dilemma che ogni giorno abbiamo nelle nostre vite in cui da una parte il nostro cervello emotivo ci fa sentire la vita ci attiva sul fronte emotivo dall'altra parte il nostro cervello cognitivo deve entrare in contatto deve parlare al cervello emotivo e deve permettere al cervello emotivo di dare senso a quello che sta provando ma anche di individuare quei significati e quelle competenze autoregolative per cui io non mi trasformo in una zatera in balia delle tempeste emotive ma dentro quelle tempeste emotive trovo dentro di me le risorse che sono necessarie a sapere affrontare con la tempesta che magari non avevo previsto ma che nella vita poi può avere ora queste cose sono predisposte dentro al nostro funzionamento mentale noi abbiamo la possibilità e la capacità di costruire reti neuronali integrative tra parte emotiva e parte cognitiva del nostro cervello ma questa fioritura di reti neuronali non avviene in modo spontaneo così automatico avviene nelle diverse fasi dello sviluppo in funzione della qualità delle relazioni che viviamo e chiaramente anche delle esperienze in cui veniamo coinvolti e certamente anche del progetto educativo che gli adulti ci mettono a disposizione quindi avere questo focus e questa attenzione molto forte anche sulle abilità per la vita su come si apprendono su come si educano su come si formano nelle diverse fasi del percorso evolutivo dei nostri bambini e bambine ragazze e ragazze rimane davvero un elemento di fondamentale importanza ed è cosa molto buona e giusta che il MIUR l'abbia resa una delle pratiche ecco delle priorità da rimettere al centro della progettazione educativa anche in ambito scolastico a partire dal prossimo anno Ecco professor Perlai quindi parlavamo appunto diciamo di come si educa all'interno anche della scuola su vari argomenti tra cui parlare di guerra lei decida di prepararsi prepararsi sia nel suo argomento ma voi suggerite anche delle metodologie da utilizzare per essere più incisivi all'interno della classe ci aiuta con qualche suggerimento? direi che in generale i metodi che noi portiamo all'interno della vita di classe sono quelli che mediamo dalle tecniche di educazione emotiva quindi da una parte il metodo del circontario che è un metodo che permette alla classe di viversi come un gruppo che è in ascolto e in dialogo intorno a temi che possono essere temi anche molto attivanti e rispetto ai quali ognuno ha la possibilità di raccontarsi e di collocarsi e in cui in realtà il docente non è più lì con il ruolo di docente ma è semplicemente con il ruolo di tutor che facilita il processo di dialogo e di ascolto all'interno di un gruppo classe poi direi intorno a temi che sono così attivanti dal punto di vista emotivo abbiamo la possibilità di introdurre anche delle tecniche di lavoro di natura psicocorporea possiamo introdurre le sessioni di rilassamento corporeo che servono sempre e indipendentemente da quello che accade nel mondo fuori perché poi sono dei modi molto molto utili e che di nuovo vanno insegnati per avere una buona padronanza e consapevolezza del proprio mondo dentro possiamo usare le tecniche di immaginazione guidata possiamo permettere possiamo portare narrazioni usare le storie noi siamo storie possiamo proporre cartoni animati possiamo proporre film agli preadolescenti e agli adolescenti possiamo far leggere storie intorno a quello che vediamo narrato in una storia aprire poi un dibattito un lavoro di comprensione del testo delle immagini della narrazione proposta ecco tutto quel modo tutto un modo che in realtà scrive dentro la nostra mente dentro il nostro corpo dentro le nostre relazioni che sono le tre dimensioni fondamentali che costruiscono il benessere di ciascuno di noi tutti questi temi rispetto ai quali il rischio altrimenti a scuola è che se ne parli con una modalità puramente informativa e cognitiva che viene anche depositata in un cassetto della mente da chi l'ascolta ma che poi non risolve tutta quella attivazione invece o quel bisogno di imparare un saper essere in riferimento a questi temi che rimane una responsabilità educativa dell'adulto perché i bambini e le bambine non se le sanno dare da soli in autogestione questo genere di educazione ecco per soianes più o meno la stessa domanda da un punto di vista pedagogico oltre all'argomento come è importante che l'insegnante adotti delle metodologie adeguate e lei quale si dice ma io riprendo un attimo il ragionamento di Alberto no perché mi piacerebbe che la scuola scrivesse nella mente nel cuore dei nostri alunni alunne il concetto di giustizia o ingiustizia perché dove si scrive chi lo scrive nella nostra mente il senso di quello che è giusto quello che non è giusto è giusto invadere un paese è giusto rubare il giocattolo al compagno se ti piace di più cosa è giusto e cosa non è giusto è un discorso valoriale è etico politico questo secondo me la scuola deve scrivere questi codici secondo me dentro nella mente delle persone io credo che molti di noi si sono costruiti il codice del giusto e dell'ingiusto con delle letture con delle militanze politiche se vogliamo in tanti in tanti modi ma abbiamo questo se non abbiamo questo codice del giusto e dell'ingiusto qual è il problema uno è più grosso invadere l'altro avrà il petrolio andiamo glielo a prendere non c'è problema nessun problema tecnico come fare ad arrivare al proprio obiettivo ma non non è così c'è un tema della giustizia del giusto e dell'ingiusto e dei dilemmi continui che ti mette questa questa situazione cioè i dilemmi etici i famosi i dilemmi di filosofia pratica come lo uccideresti l'uomo grasso per dire quel famoso libro pubblicato da Raffaello Cortina secondo me molto molto interessante cioè lo butti giù dal viadotto l'uomo grasso per fermare il treno che altrimenti ucciderebbe quattro persone legate sui binari per cui tu commetti un assassino oppure no nel senso che allora questi sono sono temi fondamentali per fin dai bambini e dai bambini piccoli avanti 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 per tutta la vita che devono coinvolgersi coinvolgersi poi c'è un'altra questione la questione del del concetto proprio di poter fare qualcosa no gli agency cioè io posso fare qualcosa rispetto a a questo tema così grande come la guerra cioè posso fare qualcosa allora una metodologia estremamente interessante che può essere fatta proprio a scuola è quella un po' mutuata dal teatro dell'oppresso cioè dal dal poter drammatizzare alcune situazioni e poi coinvolgere gli spettatori direttamente nell'analisi ma vi sembra una buona soluzione questa come si potrebbe fare in maniera differente no c'è che che propone una modalità differente allora uno alza la mano dice io avrei un'idea benissimo allora vieni interpreti il ruolo di questo di quell'altra persona e poi cambi il finale no riesci con una modalità alternativa a produrre qualcosa che va nella direzione della giustizia nella direzione della costruzione della pace ecco anche questo ha un buon senso di essere attivi no di poter determinare una piccola goccia nell'oceano però se non c'è questa goccia l'oceano è una goccia di meno no a me piacerebbe che venisse recuperato lo spirito del Friday for Future cioè di questa attivazione proprio degli studenti e delle studentesse che sentivano no di poter incidere in qualche maniera no c'è stata una fase in cui ovviamente c'era movimentazione c'era ecco allora questo sempre di più lo vediamo il clima il clima lo richiede la situazione geopolitica internazionale lo richiede allora questo sentirsi parte attiva costruttori costruttori costruttrici di pace io credo che sia anche questo fondamentale ecco chiudo con un'ultima domanda in grado in questi due anni e mezzo di scuola abbiamo vissuto questa pandemia di conseguenza la guerra e abbiamo pensato più a contenere dal punto di vista sanitario la pandemia trascurando i problemi militari che conosciamo anche prima i ragazzi sono stati molto con le piccole nel prossimo anno scolastico che cosa vi augurate io spero diciamo di essere più attenti nelle esigenze dei ragazzi anche da questo punto di vista voi invece che cosa vi augurate per quel che riguarda mi auguro grande attenzione ai bisogni anche della sfera emotiva interpersonale socio-relazionale bisognerebbe partire da una scuola che ha intenzione di rimettere i suoi studenti al centro del percorso formativo invece che mette l'attenzione alla pandemia al centro no questo significa e ce lo auguriamo il masserilamento non sarà più necessario ma riesca tutta una scuola finalmente ritorna fuori al mondo per il mondo come un luogo all'interno del quale si possono solo incontrare il colore si possono affrontare con il rischio ma il luogo da esplorare all'interno del quale fare e fare esplorazioni che ha fatto malissimo per anni per anni per un po' di escursioni in contesti del territorio in potenti di alteranza scuola lavoro dove si potrebbe poterlo mettere a conto da una serie di apprendenti che a me non può ottenere stante un rischio fermo in banco con una spiega io mi augurerei che i docenti della scuola non facessero non pensassero che le life skills le competenze non cognitive tra virgolette fossero una specie di materia una cosa che come l'educazione civica infiliamo di qua e di là insomma la svigliamo ma che pensassero come rendersi loro direttamente attori di life skills dentro la loro ordinaria attività perché è assurdo che uno mi faccia un'unità sull'empatia e sul qualcosa cioè dei giochetti di ruolo sull'empatia quando dopo io gli chiedo delle cose come studente e non mi ascolta e dimostra concretamente nella sua vita reale che è quella che l'esempio le cose che faccio diciamo direttamente non ho empatia o non ho democrazia o non ho sviluppo di quelle di quelle competenze appunto socio emotive di cui Alberto giustamente parlava per cui dovrebbe essere proprio l'essere quella dimensione lì dell'essere è nell'essere nostro non è nelle parole che noi diciamo nelle attività che noi facciamo ma dopo magari facciamo anche l'interrogazione o la verifica allora evidentemente avremmo avremmo spagliato qualcosa devono diventare proprio parte del nostro essere educatori insomma noi siamo noi siamo stati forgiati nell'essere dall'esempio e dalle relazioni con delle grandi con delle grandi persone penso a Andrea Canevaro ad esempio che è scomparso ma chi lo ricorda con affetto o con riconoscenza lo ricorda per il suo esempio per le sue relazioni che ha avuto con noi più che non le parole che ha scritto o detto che comunque erano perfettamente coerenti col suo essere più profondo grazie ad entrambi per se stati con noi grazie a voi grazie grazie